Buon pomeriggio a tutti. Lascio la parola direttamente al mister. Sì, no, volevo tornare un po' sull'episodio accaduto a Liverpool, che personalmente condanno ogni forma di violenza, ancora di più quello che è accaduto a Liverpool. Io, col mio staff, la squadra, siamo molto vicini a Sean e alla sua famiglia e mi auguro di vero cuore che la partita di ritorno, che ricordiamoci è una semifinale di Champions e deve essere una festa, un orgoglio per tutta la tifoseria della Roma, sia veramente una festa, magari con un grande risultato, ma che sia principalmente una vera festa di gioia e di sport. Questo è un appello che faccio proprio alla nostra tifoseria. Possiamo iniziare con le domande. Censi, Roma Radio. Salve mister. Quali sono le condizioni mentali della squadra al rientro da Liverpool? Sicuramente tutti molto dispiaciuti perché ci aspettavamo un risultato differente, ma almeno la capacità di rimanere in partita con maggiore attenzione e applicazione, perdendo meno duelli in base alla partita che abbiamo preparato sotto tutti i punti di vista. Non è andata così, però abbiamo davanti una partita molto importante con il Chievo, per poi pensare a quella successiva. E credo che i ragazzi debbano avere il desiderio e la volontà di volersi rifare della partita persa per potersi subito ributtare sul campionato, dove abbiamo delle quattro gare determinanti, tra cui questa col Chievo. Vespasiani, Roma TV. Eccoci. Le chiedo appunto sul Chievo. È una squadra che è scivolata in maniera sicuramente pericolosa verso la parte bassa della classifica, però ha quasi fermato le grandi. Poi alla fine non c'è mai riuscita, però ha reso sempre una vita molto dura. Ecco, che avversario è? È un avversario abituato a lottare per salvarsi, che ha fatto tanti anni in questo campionato, squadra esperta con tantissimi giocatori che, più che giovani, esperti. E questo può essere, diciamo, un'arma a loro favore. Però dall'altra parte noi dobbiamo vincere, dobbiamo portare a casa i tre punti, sapendo di aver sofferto anche in passato con squadre che si vengono a chiudere qui a Roma e dobbiamo essere bravi a cercare di far gol prima possibile. Ovviamente, prima di tutto, non prenderlo. Avere la capacità di essere più determinati e incisivi sotto porto. a sogno, a Sky Sport. Francesco, le volevo chiedere se, avendo rivisto la partita con il Liverpool prima di passare al Chievo, che valutazioni ha fatto a freddo? Se quei difetti che ci sono stati, se quei problemi ci sono stati la notte di Anfield siano stati figli del fantastico ritmo e intensità degli uomini di Klopp o se ha visto dei problemi della sua squadra che vanno oltre questo? Se la squadra ha dato tutto, per esempio, nella notte dell'Olimpico contro il Barcellona? Ma guarda, analizzandola, noi abbiamo fatto molto bene per me i primi 25 minuti. Dovevamo anche la sensazione di essere più in partita di loro. Al primo contropiede, alla prima palla magari uscita fatta male dei nostri difensori, alla prima occasione di Mané siamo andati un po' in difficoltà, ci siamo abbassati un pochino, ma nello stesso tempo siamo stati poco determinati in alcuni duelli. Devo dire che fisicamente il Liverpool ci è stato superiore, anche a livello di dati, a livello di corsa. E noi per poter competere a certi livelli, come ho sempre detto, bisogna riportare i nostri livelli di corsa, i nostri livelli di determinazione e di cattiveria agonistica a quella che è stata un pochino la gara con il Barcellona o anche altre gare precedenti. Detto questo, siamo un po' smarriti, un po' impauriti, cose che non devono accadere, perché stiamo facendo un qualcosa di straordinario, in questo momento perlomeno una semifinale di Champions e dobbiamo essere un pochino più spigliati, più coraggiosi, anche nell'andare a fare determinati duelli. E poi sulla partita del Chievo le volevo chiedere, avendo visto un salto di qualità di alcuni giocatori che fino a Ferrara erano un po' delle incognite, no? Perché Scicco non aveva mai segnato, con la nonna era sempre andato così, così. Tre, quattro giocatori hanno fatto un notevole salto di qualità a Ferrara. Le volevo chiedere se in qualche modo verrà riproposto un turnover di quel tipo, visto le garanzie che quel gruppo ha dato. Ma innanzitutto abbiamo fuori sicuramente Perotti e Strottman per questa gara, Perotti forse anche per qualche giorno in più, penso per un paio di settimane. Per quanto riguarda Strottman, che ha avuto una forte contusione al costato, per questa gara non ci sarà, non si allena in questo momento con la squadra, mi auguro almeno di poterlo avere a disposizione con Liverpool. Per quello dovrò cambiare alcuni elementi legati a questa cosa. Poi per quanto riguarda il turnover, vedrò anche oggi, in base ai recupero dei ragazzi e alla condizione psicofisica generale, se variare un po' la formazione. Ma sicuramente dei cambi ci saranno in vista della partita contro il Chievo. Pastore Romanista. Buongiorno. All'andata con il Chievo ha esordito Schick da titolare. A un girone di distanza, dopo che si è sbloccato con il gol a Ferrara e dopo aver disputato anche delle buone prestazioni in Europa, è pronto per giocare con Dzeko nel 4-3-3 anche? Sì, sì. È pronto per giocare nel 4-3-3, poi valuterò se farlo giocare o meno. Però ritengo che lui, come caratteristiche, è differente dalla classica ala del 4-3-3. È un po' come abbiamo giocato anche a Ferrara, volendo, con Nainggolan e Pellegrini che si sono alternati giocando dentro, aperti. Per quello si può fare benissimo. È ovvio che da parte sua ci vuole maggior sacrificio poi in quella che è la fase difensiva. Ma è un giocatore che ha una condizione adesso principalmente sia fisica che mentale ottimale. Per quello potrebbe essere della partita. Pinci, da Repubblica. Salve, mister. Io ho rivisto la partita ieri, credo. Sì, ieri. Ho avuto un'impressione, le chiedo se è vero, magari sbaglio io. Ho avuto l'impressione che quando avete cambiato, tornando alla difesa a 4, lei chiedesse insistentemente di giocare 4-3-3. A me non piace molto parlare di numeri, ma è un'impressione e mi piaceva condividerla. Lei chiedesse di giocare 4-3-3 e la squadra invece tendesse un pochino, ecco forse la posizione di Nainggolan, assomigliare un pochino più a un 4-2-3-1. Le chiedesse se è così, se è una cosa di cui avete parlato, se invece è stata un'impressione sbagliata. Ma quando siamo passati 4-3-3? No, c'è stata una comunicazione errata all'inizio, in cui Gonalon aveva capito qualcosa di diverso. Però io avevo chiesto di mettersi 4-3-3. È normale che ci sono delle caratteristiche di alcuni giocatori, come Strotman, che tende più a venire magari a prendere la palla che a buttarsi. Ma guarda caso, quando si è buttato è venuto il calcio di rigore, quando si è ributtato un altro calciatore è venuto il gol. Per quello sono tutte situazioni in cui i ragazzi devono avere ancora maggiormente forza in quello che abbiamo proposto. Però abbiamo fatto delle scelte, ho fatto delle scelte, per quello le responsabilità sono mie nel bene e nel male, in tutto quello che si fa. Però la differenza la fa sempre poi, non i numeri, ma sono convintissimo, lo ribadisco per l'atteggiamento, la determinazione e la cattiveria agonistica che si mette in determinate gare. Non puoi andare a giocare contro il Liverpool e non avere la loro stessa cattiveria. Poi, alla meglio, la possono avere loro, noi, non lo so, perché alla fine si vedrà, però bisogna metterci sempre qualcosina in più. E inconsciamente ci siamo un pochino sciolti e impauriti nella parte centrale della gara. Prego. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Le volevo chiedere se, avendo rivisto immagino la partita nel dettaglio, lei rifarebbe tutte le scelte che ha fatto, anche quelle iniziali, di preparazione di mentalità del modo in cui aveva deciso di sfidare il Liverpool. E se, alla luce del risultato dell'andata, la partita di domani diventa la partita principale per scegliere gli uomini giusti per affrontare questa volata Champions o se continua a considerare davvero molto possibile la rimonta contro il Liverpool. Grazie. Stessa domanda col Barcellona. Chi non ci crede può stare a casa. Per quello, io già vi ho risposto, mi sembra assurdo pensare di andare a giocare e poi una partita di ritorno, poi non ne voglio neanche parlare oggi, perché poi mi incazzo, mi fa rabbia pensare a questa cosa qui, una partita di ritorno con 70.000 persone allo stadio e andarsela a non giocare. Se volete questo, non lo so, mi sembra... Al di là di questo, che io sono già carico per quella che è la partita col Chievo, che è determinante, e per quella dopo, ritengo che... Non so se ho fatto le scelte giuste per arrivare in semifinale. Non lo so se l'ho fatta. Forse ci dobbiamo fermare prima. Allora dico che nelle scelte giuste o sbagliate che si facciano bisogna portare avanti con grande dignità, con grande forza quello che ho fatto e quello che abbiamo fatto insieme. Io ci credo, credo ancora in questa squadra che possa avere la forza di rifare determinate cose e ho il desiderio che sia accompagnata dalla forza di tutto l'ambiente. Per quello, prima Chievo, partita molto delicata, molto importante, e poi penseremo a Liverpool. Poi delle scelte, giusto o sbagliate, che si fanno. Lascia il tempo che trova. Però, qualsiasi cosa, prendetevela con me, perché la colpa è mia, in tutto quello che si fa. Anche che siamo andati in semifinale di Champions. Per quello, prendetevela con me, però la facciamo lavorare alla squadra in maniera tale che sia convinta di poter fare qualcosa di importante. Da qui, l'ultima partita. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Io mi riallaccio proprio a questo e faccio una domanda di Francesco Giocatore. Se fosse venuto da lei Capello e le avesse detto la partita più importante è quella di domani col Chievo. Lei, da giocatore, magari nel fare uno scatto in più, non ci avrebbe pensato al fatto che tre giorni dopo c'è una partita storica che magari facendo uno scatto in più inconsciamente rischia di saltarla? Ci siamo già passati con la Fiorentina, giusto? E ci avete detto bravi perché avete pensato al Barcellona. Giusto? Avete scritto sui giornali bravi giocatori perché avete pensato al Barcellona. Io credo che nella crescita di questa squadra e di questo ambiente lo ribadisco per l'ennesima volta la capacità di trattare le partite nello stesso modo. Ma magari l'avessimo fatto con Liverpool a livello mentale. Quello voglio dire. Questa deve essere la grande forza di una squadra che vuole crescere e migliorarsi. E io credo che noi dobbiamo trattare la partita col Chievo veramente in maniera importante come se giocassimo una semifinale perché è una partita che non ci permette di poter sbagliare visto che dopo ce ne sono meno e rimediare è sempre più difficile. Lorusso RDS Buon pomeriggio di Francesco. Senta, quando lei parla di quella cattiveria agonistica che fa la differenza e che tutto sommato si è visto con il Barcellona in casa si è vista meno a Barcellona e meno a Liverpool come si fa a motivare una squadra al punto di ripetere praticamente un miracolo un'impresa per due volte consecutive e così vicine passando poi per una partita altrettanto importante come quella di domani cioè qual è il lavoro di un allenatore in questo senso dal punto di vista semplicemente mentale e motivazionale? Ma io credo che prima di tutto stiamo parlando tantissimo però del Liverpool era inevitabile oggi e parliamo poco di quella che è poi chissà che mi domandate mercoledì però detto questo poi divento poi ripetitivo io parlo che di determinazione in determinate situazioni nei duelli individuali loro sono stati più bravi di noi e questo è assodato giusto e a volte deve scattare un aspetto mentale e psicologico in cui abbiamo dimostrato di potercelo avere e di averlo in tante altre occasioni dove siamo mancati in quest'anno un po' nella continuità in questa cosa qui e la dobbiamo ritrovare prima possibile perché non abbiamo tempo non c'è tempo di stare lì e aspettare di rifare questi discorsi qua per quello prima di tutto pensare a vincere questa partita con grande determinazione e cattiveria e cercando di mandare in campo i giocatori che ce la possono far vincere e poi penseremo al Liverpool preparandolo con grandissima cattiveria agonistica e con l'aiuto del grande pubblico che ci sarà Trinca Teleradio Stere Salve Mister Buon pomeriggio la partita contro la spalla ha dimostrato che la Roma dispone di calciatori in grado di affrontare anche il peso di una semifinale successiva Jonathan Silva e Bruno Perez si sono mossi bene sugli esterni potrebbero tornare di nuovo in campo consapevoli del fatto che non sembrano aver sofferto la pressione di un match così importante potrebbero essere tutti e due o uno dei due questo non lo so lo decido oggi però hanno dimostrato di essere pronti Bruno di essere in grande crescita Silva ha fatto una partita dal mio punto di vista di grande intelligenza perché era alla prima di 90 minuti dopo tantissimo tempo e non ha cercato di fare il suo il che non è poco ed è sinonimo che è un giocatore affidabile per quello potrebbero essere tutte e due come uno dei due della partita Parisi Centrosuono Sport Buongiorno mister io le volevo chiedere un commento in caso una risposta alle parole nel post partita dette da Rio Ferdinand e da Roikin e se in particolare le parole di Roikin mi ha detto insomma se fossi nei giallorossi mi ritirerei possono essere da stimolo ai giocatori in vista della gara di ritorno io credo che Roikin non so che faccia che lavoro fa non lo so non mi interessa nemmeno non devo dare nessuna risposta a uno che sta dall'altra parte e ha interesse magari a dire cose che hanno detto anche prima della partita col Barcellona ma lo dicono qua in Italia figuriamoci se non possono dire gli inglesi per quello non mi tocca ma le risposte è giusto darle poi non qui ma sul campo poi ricordiamoci sempre dove siamo arrivati perché il livello si alza il livello si alza e credo che ci sia stato un giocatore che abbia fatto in quella partita lì la differenza che è stato Salah e mi auguro che in questa partita di ritorno ci sia uno di miei che faccia la differenza Facciamo l'ultima Fagnano Rete Sport Buongiorno mister la stagione non ha ancora emesso dei verdetti finali quello che fa riflettere un po' il paradosso che riguarda una Roma migliore delle italiane in Europa e con qualche difficoltà in più in campionato volevo chiederle come si spiega lei questo paradosso e se c'è qualche fattore in più oltre al fatto che comunque il calcio italiano è uno dei più complicati Paradosso credo che non sia un paradosso perché tu quando vai su due competizioni magari una va fino in fondo bene l'altra fa fatica lo dimostra anche il Napoli che ha dimostrato di essere competitivo in campionato e ha fatto fatica poi in Champions è uscito la Juventus invece è la squadra diciamo più abituata a mantenere stabilmente e a competere su tante competizioni l'ha dimostrato negli anni noi invece quest'anno obiettivamente potevamo fare sicuramente meglio in campionato è innegabile però abbiamo fatto qualcosa di inaspettato e di straordinario in Champions che deve ancora finire cioè ancora non possiamo definirlo per quello c'è ancora tanto da dire magari c'è qualcos'altro di importante da scrivere per quello aspetteremo fine campionato per poter dire definitivamente tra le conclusioni di quello che poi è stata l'annata della Roma grazie grazie a tutti